Rendere più sottile il divario tra gli alunni che frequentano le scuole del Nord e quelli iscritti agli istituti scolastici pubblici del Mezzogiorno. Parliamo di uno degli obiettivi che Svimez, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, si prefigge ormai da anni. In questa direzione, presso la Casa di Vetro di Forcella, struttura ricreativa che ospita bambini e ragazzi della zona per garantire loro attività di crescita costante, si è tenuto l'incontro Un Paese e Due Scuole, evento organizzato da Svimez con l'ausilio dell'Aolus l'altra Napoli, impegnata da anni nel riscatto e recupero del rione Sanità e proprio di Forcella. Alla presenza di figure appartenenti al mondo della scuola e delle istituzioni sono stati analizzati gli ultimi dati raccolti legati alle attuali differenze educative nelle diverse regioni italiane. Ai nostri microfoni Adriano Giannola e Luca Bianchi, rispettivamente presidente e direttore generale della Svimez. Io sono in visita perché non ero mai stato in questa nuova edizione di questo stabile, di questa cosa bellissima e mi sembra anche molto funzionale per una situazione di dinamismo per quello che riguarda i ragazzi, le famiglie, quindi un elemento che mobilita un po' questo ambiente. Siamo oggi qui a Forcella per parlare di scuola, per parlare soprattutto di divario in termini di offerta scolastica tra nord e sud. I dati che oggi presentiamo fotografano una scuola a troppo diseguale, in cui al sud è negato dall'asilo nido, al tempo pieno, abbiamo palestre molte, la gran parte delle scuole senza palestre, senza mensa scolastica. Nel corso degli ultimi anni c'è stato un disinvestimento sulla scuola, gli investimenti al sud sono calati quasi il 30% nel settore della scuola.